Partendo dal presupposto che l'acqua è come il vino, il sommelier o chi per lui dovrà presentare il prodotto esattamente con le stesse caratteristiche con le quali andrebbe a presentare un vino. In questo caso che cosa può raccontare? Racconta che è stata scelta un'acqua che ha un bassissimo contenuto di nitrati, un accettabilissimo contenuto in sodio, un perfetto ed equilibrato residuo fisso e logicamente andrà a raccontare che quella bottiglia ha la stessa nobiltà del vino, partendo già dalla sua immagine, dal suo aspetto. Non soltanto un fatto di etichetta, rigorosamente una carta di grande eleganza uguale a quella dello champagne, ma anche una capsula e quindi il sommelier andrà a fare esattamente lo stesso servizio che fa quando va a servire una bottiglia di vino. Presenterà la bottiglia e poi sul suo gheriton provvederà all'apertura della sua bottiglia. Come vedete la linguetta fa sì che noi possiamo equipararla a quella di una bottiglia di vino. L'operatore non tocca mai il tappo, come vedete il tappo è ancora integro. Con questa linguetta abbiamo dato l'immagine al nostro cliente che questa bottiglia sarà aperta solo per lui. Partiamo anche da un altro concetto, dalla temperatura di servizio, che è fondamentale. Fondamentale perché? Perché dobbiamo sempre versarne poca affinché la temperatura possa sempre rimanere all'interno di quei 6-10 gradi per cercare un attimo di tenere l'acqua possibilmente fresca. L'acqua ha un suo ruolo che è quello di dissetare. Non deve essere troppo fredda perché altrimenti anestetizza le papille gustative, ma a quel punto se noi riusciamo a mantenerla fra i 6 e 10 gradi, il bicchiere cattura sempre 2 gradi, ecco che avete fatto un percorso perfetto di tecnica di servizio. Dopodiché logicamente non potete utilizzare il ghiaccio all'interno del bicchiere perché andrebbe a togliere quella che è la purezza dell'acqua. Così come non potrete versare una bottiglia così elegante in una caraffa, vi farà perdere sicuramente quella che è l'eleganza della bottiglia e poi ancora non saprete come è stata lavata quella caraffa. Per mantenere integro il patrimonio della cerimonia del bere sarà giusto ricordare a tutti che una bottiglia di acqua deve essere aperta in questo modo. Come vedete l'operatore non ha ancora toccato il tappo perché è ancora protetto dalla sua capsula, ma soprattutto sarà anche nel modo di servire l'acqua che sarà esattamente come quando andiamo a servire un vino. Come vedete lo stesso servizio di una bottiglia di vino e in questo bevante c'è la giusta dose di acqua. La bottiglia andrà riposizionata in una glassette affinché rimanga sempre alla giusta temperatura. Vi accorgerete che i nostri amici di volta in volta richiameranno il bicchiere perché l'acqua filette vi richiamerà continuamente al sorso.